E allora, cari amici, buongiorno. Questa è la carità di Sant'Ernesto che non si ferma. Come vedete, cerchiamo di venire incontro alle esigenze di chi è in difficoltà. Ovviamente i volontari, Don Carmelo, Stellina, come vedete, partecipa anche. Ecco, e qui, vedete, abbiamo posizionato tutte le postazioni che andiamo... Ecco, ora, questa mattina con l'aiuto del Banco Alimentare riceveremo delle altre derrate alimentari. Con le quali aiuteremo non solo i nostri assistiti, ma tutte le persone che bussano alla porta e che hanno bisogno in questo momento sicuramente di opportunità, ma anche un momento di grande difficoltà per le persone e le famiglie. Nel frattempo, invece, in segreteria, vi porto nei locali segreteria, dove attualmente stiamo facendo il servizio di identificazione delle 200 famiglie che il Comune di Palermo ha a noi segnalato per poi la successiva distribuzione dei buoni spesa. Ecco, ci troviamo in questo momento in piena operatività. Ecco, vengono i nostri volontari, nonché i nostri fratelli e amici, ci danno la possibilità di registrare le persone al computer che poi entro 72 ore al massimo riceveranno tramite mail o tramite cellulare i buoni spesa da poter utilizzare. Ecco, quindi come vedete, la carità non si ferma anche in questo momento di difficoltà. daremo più valori per il futuro. Ecco, Don Priva, i fratelli e sorelle si debbono... Don Priva, una testimonianza dell'importanza della carità in queste giornate di difficoltà, ma sicuramente di opportunità che il Signore ci sta offrendo. L'importanza della carità in questi giorni. Eh, la carità in questi giorni, la carità è il nome di Dio, Dio è carità. E se Lui ci chiama a riscoprire la nostra vocazione in questi tempi di difficoltà, ci chiamano a riscoprire ciò che siamo, noi siamo carità. Ecco, grazie. E quindi, ecco, vedete quello che ci diceva il nostro amico, no? Mi ricordo il suo nome, Massimo, ecco, quello che ci diceva Massimo. L'importanza del gesto della carità, ecco, con l'accompagnamento del senso e della parola di Dio, come ci testimoniava Don Priva. Facciamo per sorridere. No, sorridiamo così. Sorridiamo dietro la mascherina. Ah, c'è arrivata la mascherina. E allora, è appena arrivato il mezzo del banco alimentare, come vedete, appunto, come dicevo prima, la carità non si ferma, ma i nostri amici continuano a scaricare e si continuano così ad aiutare le persone. Ecco, l'importanza della carità, ecco, vi ricordate quando facciamo la giornata del banco alimentare, ecco, dico, questi sono i momenti in cui poi queste terrate alimentari, ma non solo queste, ovviamente, continuano a girare e continuano a... Soprattutto di ogni sacchietto che si dà, gli alimenti, portiamo nelle famiglie, pure un po' di speranza, Cristo stesso, che è carità, e soprattutto una parola di conforto al momento giusto che le famiglie ne hanno di bisogno. Appunto. Lasciando fuori dalla porta il coronavirus. Assolutamente. Ecco. E quindi, ecco, il gesto che si fa... Il gesto che si fa è un gesto sicuramente di carità, ma che accompagna anche con la parola, la speranza e la presenza di Dio. Dio non c'è nessuno. Dio non c'è nessuno, no, altri due, mi sembra. Oh, intanto comunque buona pasta per quanto è possibile. Senti, senti. E noi ora, addirittura, in mezzo abbiamo per ora 180 pasti. Ecco, questi sono locali che in tanti non conoscono. Questi sono i locali che la parrocchia ha destinato per le derrate alimentari. Ecco, come vedete, in questo momento eravamo quasi alla fine delle nostre scorte. Ed ecco che il banco alimentare si è subito attivato e ci sta portando le nuove scorte. Come vedete, abbiamo anche le zone con le celle frigorifere, perché se dovessero arrivare dei prodotti, ovviamente, che hanno bisogno di essere conservati a temperature basse, noi abbiamo anche questa possibilità. Ecco, io personalmente mi auguro che questi piccoli filmati che stiamo facendo possano far venire la voglia a qualche nostro parrocchiano, ecco, di mettersi in gioco, di materialmente venire a collaborare con la nostra Caritas parrocchiale. Perché c'è bisogno di tutti, di tutti, specialmente di giovani. Ecco, quindi sarebbe bello che fosse motivo di nuove adesioni. Mancano due di riso, forse, può essere. Massimo, ah, quello, vabbè. Ok, così siamo a forza. Di riso che era, forse. Anche il nostro carissimo Alfredo, vincendo tante esistenze, ha capito che le persone hanno un sacco di bisogno. Il senso del dovero, della carità. Il senso della carità si è superiore alle preoccupazioni. O personalmente io, ma soprattutto i miei. Mia figlia mi ha detto non riuscire perché non ti saluto più. Proprio ieri abbiamo sentito una ragazzina di 15 anni che è costretta a stare a casa per una malattia che era a risco. Quindi dice, io mi devo salvaguardare, non mi devo esporre. Però alla fine il desiderio di rendersi presente e utile con l'esperienza della conoscenza che abbiamo avuto, l'ha esposta. E quindi ha deciso poi di uscire per fare la carità. Quindi una quindicenne ci dà una speranza grande ma anche la saggezza da grande a volte fa vincere quelle che sono le paure. Ed è di incoraggiamento. Anche questa attività noi la dobbiamo svolgere certamente con spirito di abbenegazione ma comunque con la prudenza del caro. Certo, ecco perché siamo tutti mascherati, non perché stiamo andando di satuolo. Perfetto. Grazie a voi. La disponibilità di alcuni amici fedeli che danno una mano per aiutare il comune e anche la comunità parrocchiale per venire in conto alle persone che richiedono un soccorso e un aiuto. E questo lo facciamo a nome di tutti dovendo tutti stare a casa ma sappiate che alcuni danno del tempo e dell'energia per poter rivolgere questa missione bellissima. Don Carmelo, l'importanza della carità in questo momento di difficoltà ma sicuramente di opportunità che ci sta offrendo il Signore. La carità liberata da tutti i sentimenti superficiali di benevolenza semplicemente banale ma come sorgente dei rapporti e conoscenza del vero valore delle persone e quindi della loro tensione a vivere è l'energia che è in grado di far vivere rimettere in sesto un popolo e dargli una prospettiva positiva non magica non con risoluzioni fantastiche ma perché rende le persone appassionate alla vita al lavoro e alla responsabilità e quindi mette le condizioni per poter costruire una casa comune degna della nostra dignità. Benissimo, grazie e allora buon servizio.